Bentrovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762. Venerdì 18 luglio. Ariete, se bandite con decisione l'insicurezza, vivrete una giornata ricca di opportunità. Novità a go-go, prestazioni d'eccezione in palestra, occasioni d'oro in viaggio, immagini pubblica in netto e progressivo rialzo, soluzioni providenziali. Toro, l'attività promette ottimi risultati in tempi brevi, nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo, economia da tenere sotto controllo. Nell'eventualità di dover operare una scelta, decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui. Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in programma. Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi. Cancro con fare dispettoso, la luna nell'ariete e semina zizzagna in casa e in famiglia. Un rimprovero mosso da una persona cara urta la vostra suscettibilità. Non pensate di essere perseguitati dalla sfortuna, soltanto perché le cose girano per il verso sbagliato. Leone, giornata baciata dalle stelle con il trigono della luna inariete. Avete appoggi e riconoscimenti, trasformazioni repentine portano al successo. Grandi prestazioni nell'ambito dello sport, successi, doni e consensi. Fortuna al tavolo verde. Vergine, la routine vi va stretta. Cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così così. Da stasera un sestile risolutorio di venere rilancerà le vostre sorti amorose. Avventure dal sapore dolce. Bilancia, difficoltà di relazione con l'ambiente? La colpevole è ancora la luna inariete. Oggi alleata a Plutone inquadrato. Malintesi e visticci. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale e seguire l'istinto che vi consiglia la decisione più saggia. Scorpione, qualche turbolenza in ambito lavorativo potrà mettervi un po' sottosopra e scombussolarvi dal punto di vista emotivo. Avete la sensazione che qualcuno non ve la conti giusta? Potreste non aver torto. Esigete sì e fatta chiarezza. Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, con il favore della luna congiunta a Urano. Ottimo per risolvere con coraggio una questione intricata e la giornata ideale per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito e riscontro. Capricorno, luna inariete e Plutone nel segno si guardano in cagnesco provocando errori di valutazione, entusiasmi infondati e confusione. Non fate niente di straordinario che possa attirare su di voi l'attenzione, magari la farete franca. Acquario, affidatevi alla luna inariete e armonica a Urano per risolvere una questione legale che vi sta a cuore. Ottimismo, novità, cambiamenti. Vi sentite allegri, sereni e tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni, serata piacevole con gli amici. Pesci, vi muoverete abilmente sul fronte economico, saprete essere tempestivi e intascare un bel gruzzoletto. Giornata interessante, ricca di stimoli, sensibili e intuitivi. Non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone valide.